Ehi tu, si lo so che hai un po' di fretta e vorresti subito guardare l'episodio Volevo ricordarti di passare sulla pagina Facebook di Divise Calcio Top per acquistare maglie a prezzi molto bassi E per ogni maglia che acquisterai utilizzando il mio codice sconto, quindi hashtag Marconi, la seconda la pagherai la metà E no caro mio, se compri una maglia o qualsiasi cosa tu voglia comprare con il codice sconto hashtag Marconi La seconda è gratis, quindi non perde tempo, fidate Signore e signori, ben trovati innanzitutto in questa nuova edizione di Sky Sport 24 Ma soprattutto in questo nuovo episodio della carriera, della serie che più amate e che aspettavate da diverso tempo Come stavo dicendo poco fa, ben trovati in questa nuova edizione in cui si parla di calcio estivo Ma in particolare di mondiale, perché siamo alle porte del mondiale, del World Cup in Russia del 2018 La nostra nazionale con il CT Federico Marconi si sta preparando nel migliore dei modi per questo appuntamento importantissimo Ricordiamo il girone innanzitutto che sarà composto da Italia, Svizzera, Portogallo e Uruguay L'Uruguay che viene ritrovato dagli azzurri come quattro anni fa, fu la squadra che ci eliminò Sentiamo cosa ha detto il CT Federico Marconi all'esordio in questo mondiale Prima, nell'esordio in questo mondiale Innanzitutto ci tengo a sottolineare che per me è un grande onore essere qui Non per questo però ci faremo prendere dall'emozione Questo assolutamente no, stiamo lavorando da diversi mesi, da quando ho ricevuto la chiamata della nazionale E devo dire che si è formato un bel gruppo Non voglio gufarci questo mondiale, non voglio fare promesse che poi possiamo non mantenere Voglio soltanto dire pubblicamente che faremo tutto per rappresentare una nazione, un popolo, dei tifosi Ma soprattutto della gente che ripone in noi la fiducia che avrebbe riposto nella nazionale Che purtroppo nella realtà non è riuscito a qualificarsi a questo campionato del mondo Quindi noi abbiamo il dovere di rappresentare anche la nazionale vera, se così si può dire, nel nostro universo parallelo Due anni fa ho avuto una bellissima esperienza all'europeo con l'Italia, su FIFA 16 E abbiamo vinto in finale con l'Olanda, sì me lo ricordo molto bene È stato un europeo emozionante in cui abbiamo dato tutto E non nego che sarebbe bello comunque poter riaffrontare l'Olanda Intanto però ci dobbiamo concentrare sul nostro girone che comunque sia Insomma, nessuno ci regala nulla perché abbiamo un girone comunque abbastanza tosto Con squadre come la Svizzera, il Portogallo e l'Uruguay Quindi noi intanto dobbiamo puntare a passare il girone Facendoli in maniera intelligente e preservando anche le energie per gli ottavi di finale Perché poi, qualora riuscissimo a passare il girone, non si scherza più Da lì dobbiamo stare concentrati ancora di più Grazie e buon mondiale a tutti quelli che lo seguiranno con noi E beh, non poteva chiudere meglio il nostro CT Federico Marconi Buon mondiale, sì, ma prima di lasciarvi appunto alla clip importantissima Che riguarderà le partite almeno del girone Poi, chissà, se andremo avanti o meno Vi chiedo immediatamente 3000 like per il ritorno della carriera E soprattutto per un prossimo episodio già mercoledì Già tra due giorni Vi ricordo anche di iscrivervi se non lo siete ancora Perché potrebbe pure essere o no Ma torniamo a fare i professionali In descrizione trovate OneFootball, la mia app di riferimento sul mondo del calcio Roma Crew, canale al quale dovete iscrivervi perché appunto c'è fita pure l'app Quindi, eh? E soprattutto, diise Calciotop come avete sentito nell'intro A questo punto sì, buon mondiale per davvero Il calcio è fatto di emozioni e di sogni E se si parla di sogni, oggi è il giorno in cui si realizza il sogno di un popolo Il sogno che hai fin da bambino Perché oggi inizia ufficialmente il campionato del mondo Benvenuti a Russia 2018 Italia contro Svizzera Oggi è un giorno decisivo per capire a che livello siamo Per capire chi siamo, come disse Caressa nel 2006 Una citazione la sua che portò molto bene in quell'occasione Oggi a 12 anni di distanza dall'ultimo mondiale vinto Da un'Italia che è rimasta fuori anche da quello vero Di mondiale, come abbiamo sentito in conferenza stampa e come sappiamo un po' tutti C'è la voglia di rifarsi C'è la voglia di vendicare la nostra nazionale Ma prima di qualunque calcolo Ascoltiamo l'inno Questo l'inno degli azzurri Avete visto dei numeri improbabili purtroppo Buffon neanche capitano Ma sistemeremo tutto Questo l'inno svizzero Si fa sentire il pubblico Qui in Russia Prima di pensare a qualsiasi particolare che è secondario E quindi ai numeri di maglia Alla fascia di capitano Insomma tutti i fattori estetici Che sicuramente lasciano il tempo che trovano Pensiamo alla sfida Ha parlato a Marconi come dicevamo Ha detto che sarà importante Avere il supporto di tutti Anche voi da casa Anche voi che quest'anno ci avete seguito soltanto per la Roma Questa l'Italia con Buffon tra i pali Florenzi, Rugani, Barzagli e Darmiana A comporre il quartetto difensivo Marchesio, De Rossi e Berratti a centrocampo Con Insigne, Immobile e Del Sharawi Quindi il tridente offensivo La corsia di destra è una corsia pienamente romanista Corsia che abbiamo visto spesso anche appunto Quest'anno noi in carriera Con Florenzi e Del Sharawi Che si sono alternati molto bene sulla fascia Risponde la Svizzera con Burkini, Steiner, Elvedi, Shar, Riccardo Rodriguez Poi un centrocampo con Shaka e Gemahili Stoker, Shakiri e Stefan Alle spalle di Embolo E quindi un 4-2-3-1 Quello della Svizzera Un girone che ci vedrà impegnati anche contro il Portogallo Altra squadra importante Squadra che nel 2016 ha vinto l'Europeo Quello sul FIFA invece lo abbiamo vinto noi in finale con l'Olanda Ma ora è tempo di campo È cominciato il mondiale Ti è mosso Insigne, Verratti lo vede Alza il pallone per l'inserimento di Insigne Andi Gemahili lo anticipa Poi la parola rimane viva Il Sharawi lo lascia È immobile Burkini in calcio d'angolo Primo squillo della Nazionale Al secondo minuto È mosso Verratti Che è molto mobile in questo avvio Lo cerca da trovare immobile C'è Insigne che si muove Non riceve Verratti porta valla dentro da tiro Destro di Verratti Al quarto d'ora Marco Verratti Verratti Palla in rete 1-0 per l'Italia Si sblocca il mondiale Col primo gol Che come nel 2006 È di un centrocampista Quella volta fu Andrea Pirlo contro il Gana Oggi Verratti contro la Svizzera 1-0 per l'Italia Si è liberato Voleva il destro Lo ha trovato preciso all'angolino Nulla da fare per Burkia Al secondo tentativo Italia 1 E Svizzera 0 Siamo nel recupero di un primo tempo Che ha visto soltanto l'Italia in campo Alcuni sprazzi da parte della Svizzera Forse uno pericoloso sullo 0-0 Ma per il resto abbiamo dominato Abbiamo meritato Questo vantaggio momentaneo Con il cross di Parchisio Ancora per Verratti Non la trova Calcio di rigore però Calcio di rigore Con Verratti che non ha trovato il pallone Vediamo un po' Il cross che arriva Mano Eh sì È netta Perché vado ad anticipare Verratti Che si stava coordinando De Rossi Contro Burki Destro di De Rossi Sotto la traversa La sua maniera Italia 2 E Svizzera 0 Vantaggio più che meritato Per un grandissimo primo tempo Dell'Italia Che si porta anche sul punteggio Di 2-0 E adesso sicuramente Possiamo andare alla pausa Più tranquilli Amministrare la gara Nel secondo tempo Perché poi Ci sono altre due partite Importantissime da giocare 3 di recupero Con la Svizzera Che prova Un pallone in avanti Poi De Rossi Verratti Insigne completamente Solo a sinistra Servito con un po' di ritardo Poi servito in aria Insigne sul destro A giro All'angolino Per il punto esclamativo Sul 3-0 dell'Italia Come i tre punti All'esordio del mondiale Insigne Non poteva Mancare il gol Del giocatore più talentoso Di questa nazionale 3-0 Liquidata ufficialmente La Svizzera A questo punto Perché il tempo è finito Per davvero Italia 3 Svizzera 0 Buona la prima E adesso Pensiamo al prossimo incontro L'esordio è stato da sogno Ma guai ad illudersi Perché spesso Troppo spesso È successo A questa nazionale 4 anni fa In Brasile Successe questa cosa Dopo il 2-1 all'Inghilterra Ci furono La sconfitta Contro la Costa Rica E poi proprio contro l'Uruguay Che ci eliminò dal mondiale Oggi è una piccola rivincita Perché noi puntiamo in grande Non ci accontentiamo Di battere la Celeste Questo pomeriggio Il nostro obiettivo È portare a casa La Coppa del Mondo Ma prima E per farlo Sarà importante anche Fare tre punti oggi Buon pomeriggio Per Uruguay-Italia E allora può spingere Il controvedere dell'Italia Marchisio con insigne a sinistra L'inserimento centrale Di Pellegrini Che viene servito C'è anche il Sharawi Servito anche lui Aria di rigore E destro di il Sharawi Che non sbaglia 1-0 per l'Italia Ancora Il gol Nei primi minuti Questa volta aspetta Un attaccante Il Sharawi La prima Anzi la seconda firma Di un romanista Dopo dei rossi 1-0 per noi Poi si appoggia D'Armian Verratti Larghissimo Florenzi Che è il destro caldo Occhio che in zona tiro Si coordina con il destro Alessandro Florenzi Mette la firma Con un gol Meraviglioso Italia 2 Uruguay 0 Deve assegnato uno simile Al Chievo Verona Quest'anno Deve assegnato uno più bello Ancora Al Barcellona Su cui fa 16 E si riconferma Con un gol al mondiale Un gol Da Florenzi 2-0 20 minuti E Uruguay Già in ginocchio Ma la partita è ancora lunghissima Quindi stiamo assolutamente attenti Due romanisti a segno Prima il Sharawi Poi Florenzi Con un gol Davvero spaziale Tutti a bere qualcosa Alla pausa Punteggio di 2-0 per l'Italia Devo dire Abbastanza Imponente L'inizio della nostra nazionale Poi Uruguay Con il passare dei minuti E' uscito Piano piano Ha creato delle occasioni E avrebbe forse Vincitato anche un gol Il destro Stori però E' decisivo nell'intervento Riparte l'Italia Con Insigne Appoggio per Raviratti Che si è preso un giallo Nel corso del primo tempo A campo Con i pellegrini Attenzione Alla immobile Che dovrebbe inserirsi Ecco il taglio Da parte di Immobile Destro Giro Giro Ciro immobile Ciro il grande 3-0 Il secondo 3-0 di fila Per un'Italia Che è veramente superiore Agli avversari E adesso si Cominciamo a capire Che forse Qualcosa di importante Lo possiamo fare Florenzi Verratti La sua sterzata Verratti al limite Se la porta sul sinistro Prova a cacciare Deviazione Candreva Muslera In calcio d'angolo Italia Che continua a giocare A pallone E giustamente Aggiungerei Angolo battuto fuori Verso Barzagli Al volo Colpisce malissimo Per il Sharap Si è girato E non perdona 4-0 Poker dell'Italia Cappotto all'Uruguay Verticale per il Sharawi Inserimento anche di Candreva Ma sul destro Candreva E Muslera non para più 5-0 Al 73 Quindi Cavani Può andare al cross La mette fuori Per Vesino La finta Vesino 5-1 Mattias Vesino Prova i gol Della bandiera Il centrocampista dell'Inter Che accorcia le distanze A destra c'è anche Darmian Ultimo giro d'orologio Sbaglia qui Darmian Che sta addormenta su Codin Lo Deiro dentro Per Suarez 5-2 E adesso devo dire che Da anche un po' fastidio Che l'Uruguay Pur meritando Magari un paio di gol In questa partita Per le occasioni Criate nel primo tempo Comincia a segnare Nel finale Perché qui c'è Un'altra palla persa Al centrocampo Da un'Italia Che nel finale di partita Si è un po' adagiata Tutti a guardare l'arbitro Perché manca solamente Il suo cenno Che arriva ora Altri tre punti Vittoria pesantissima Dell'Italia 5-2 L'Uruguay L'Italia stralipante Nel corso dei 90 minuti Forse dei primi 70 Perché poi Negli ultimi venti C'è stato un po' di calo Fisico Ma anche fisiologico E adesso Siamo qualificati Penso Matematicamente Per il primo posto Dovremmo battere anche Il Portogallo Non sarà una partita Per niente scontata Ma dovremo comunque Amministrare le energie Vista degli ottavi di finale Perché poi da lì Si comincerà a fare sul serio Centrale per Berratti Molto campo Per l'Italia Con Marchisio Poi Balotelli Lopez Gli era rimasta sotto A Balotelli Prima balla gol Per l'Italia Il 14esimo Le vicino Verratti Il tocco è per lui Verratti al side cross Sul secondo mano Balotelli Il suo pulpo di testa Un cambio Nell'Italia Esce un Opaco Gallo Belotti Balotelli Va al centro Con Chiesa Che entra al posto Di Belotti Largo a sinistra Verdi resta largo a destra Nel tridente Eccolo Simone Verdi Florenzi Da Berratti Dentro Ancora per Verdi Che si è mosso Attenzione all'inserimento Dalla parte opposta Di Chiesa Appena entrato Stop In destro Lopez È entrato da 30 secondi Federico Chiesa E voleva già firmare Questa partita La porta Ciò a Mario centralmente C'è il movimento anche Di Cristiano a sinistra Ciò a Mario centrale Da Pujfonte Che si gira E va sul destro Portogallo in vantaggio E Portogallo Che momentaneamente Vincerebbe il gironi A 9 punti A punteggio pieno Non è tutto meritata Insomma La lezione per l'Italia Che Ha collezionato Molte più palle goal Ma è stata più morbida E allora Goal del Portogallo Adesso l'Italia Fa un po' di fatica dietro Sempre Andresi in Vachetti Ne parla E poi lo lagga Per Bernardo Silva Che va sulla destra Sul sinistro Silva dentro 2 a 0 In un minuto Portogallo Che si porta in vantaggio Di due goal Sempre Lui Fonte Con la doppietta Ma adesso dobbiamo Cambiare qualcosa Perché in un minuto Che prova Il pallo che dimostrò Di essere un grande avversario L'unico A saperci mettere seriamente In difficoltà Nel punto di vista Del risultato Adesso Pensiamo Alla fase di dimensioni Diretta del mondiale Perché come ho detto prima Adesso Si fa sul 6 Non si gioca più Alla fase di dimensioni Alla fase di dimensioni